Armata iniziale, 6 minuti Brutto eh? Ma che bello Puta, a posto vedete che era bello Ah! Brutto eh? No, ma che bello Dio Dio, è il Decristi, senti che era il Decristi per lì Fantastica, un po' la vita, tutto complicato Rappo Store, si, Rappo Store PlayStation Store non è più un'applicazione separata ma integrata col sistema Fichissimo, bello Fantastica Eh, una bella figata Una signora figata Eh si, devo dire, veramente bella Oh, ma non è una figata il fatto che lo abbiano messo nelle condizioni vicine, ma... Cioè, se ci stiamo vittimando, non vado sotto all'aereo Non lei capisce, vuole evitare di andare sotto all'aereo No, no, perfettamente No, 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 no Elimita tutti i bersagli iniziale No, 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 no Scusa nell'area operativa Ah, ma tu vuoi morire Hai eliminato il bersaglio ricercato Ah, subito Ho eliminato la taglia Era proprio quella che... Era proprio quella che... Cos'ava Infatti gli faccio vedere che me ne vado via A questo qua che sta ancora qua E poi gli ritrovo la cannuna appena che sta in campo aperto Guarda che ha preso il cecchino Via! Ma io che vado via Via! Mi chiamato un cugino da cecchino Ma merda Arrivo Avanzate alla prossima area E mettete in sicurezza il perimetro Arrivo? Questo dovrebbe esserci... Gente Andiamoci li via Si 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 Non Mi ha fatto colpere la Oh Oh o Oh non prendere me 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 non fai mai educato avevi detto che c'era un pò di gentile da un pò se ci stanno un pò di saldi qua il pò di sales ma mia paura cassa rochetta ok ok no no abbiamo un erbo eh sono stanco no è un destructive divento cuore subito e eh di sta attaccata la porta ma guarda ti ha appena preso un cargo ma porca p***io! io non c'ho parole eh vabbè ragazzi vg braooo di cattiveria si si, quando devi inragliare sopra la testa buon'umore sono fantastici guadagnati la libertà soldato camignola stancho a cavino cazzo se ha abbastanza soldi il vuotipo un affari condizioni è un po' aggressivo secondo me where i go? nooo che scioperta io, che scioperta io ma vabbè sai che fa, vabbè ok non va novanta la paura novanta la paura ci stiamo cacando sotto cosa lascia di più con una bella cassa rossa la paura novanta la paura novanta la paura sentite come vi devi se occhio non ingaggiare corrivo la via che mi sa che c'è qualcun altro nascondere bene uno non sopporto nientanto uno non sta arrivando no ma perché tutti un colpo li mandano cazzo novanta la paura novanta la guarda delle roba merda o ma vaffanculo ma vaffanculo cristo di dio che palle ho capito tutto bello però dai cristiano ronaldo eh cazzo mi girano i coglioni cazzo guarda qua, sono un portativo uso, sono portativi a qua eh ma si? eh, vedo pochissimi contratti, vedo stanno per merita di base forza mia, una acqua non potabile tutto sono portabile oh, due colpettini con le migliori se c'essi l'arma è sempre questo cazzo del sabo 87 per dio, morito poco quell'arma del merda arriva un lancio di equipaggiamento rullo mortale rullo mortale questo è buono se lo puoi prendere, ottimo devo stare a maniera di paura ok bene non penso nesi altra scelta da qui raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'area e questa? e questa? ma da quando è riuscita fuori questa arma? non è riuscita fuori la mitra dietro non so darmi una spiegazione? ma neanch'io signore ma non stai dote che le utili torrette scudo ogni tanto riescono non so non so non so non so chissà se un napole così in fuori mi avrebbe sofferto con un tragio eh chissà se gli avrebbe rotto il fuoco eh non lo sapremmo mai hai dato 3 a 0 e un punto di metodo proprio ti è oltre che chiamano agli 3 punti ai uve pure in punto tenevamo mhm so 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 infatti volevo restare il gioco infatti noi non lo stavamo infatti poi era proprio lui a me i forensi che non hanno potuto fare stare poi dove sarebbero scappare contrasto completato informazioni trattiche ottenute va no va bene ma va bene vene una pennellativa vete in avanti quando hai video eastern sono di silenzio precipita pesce ripieno di che non sei Ma continuento sufficenti per loro essere riempiti TWO non ti resta davanti in bene questo è buono ma sta proprio in safe safe no proprio il cielo è quello eh già io qua a merda c'è un po' brusia l'ho ma ammazzalo l'ho senti che dici me ne prego e ti salvo ormai carino che ti dai adesso come non ti mi dà questo qualche fogo c'è gente qui ti aspetto dentro casa bomba arrivo io bomba c'è il di house attenzione un team nemico vi sta dando la caccia bello voglio dire c'è sta un cazzo stava proprio a vedere c'era qualcosa stava il solido sabbio vincendo mitragliatrice leggera quantasette no almeno devi incalci un bucho eh già ci invocano quando mai piacere ecco ecco e dirò io un po' qua ci rimarrei con questa vista verso il mercatino almeno se ammazzano qualcuno mi vado veramente a prender tutto è questo percadino Senti la voglio comunque butti la caccia almeno devo qualche colpo più no 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 ne meto proprio lui ne meto hai i 60 colpi insomma che c'è BC tempo scaduto, obbbiettivo fallito Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata UAB nemico in volo Sì, qua Non mi spero, dai Possiamo scendere Possiamo salire, possiamo Non è male Non è dubbio, non vengo alla prossimità qua, già la metto Sì, sì Nellie, I love you, I do Come on, come on girl Ragazzi, di avvicinamento Scampiamo questa, subito apprende le cose apprende, subito apprende le qualazze Dove avere disufficienza Bene Siete salve, avete seminato gli inseguitori Vado, eh Grazie, va, sì Non ho preso, sta la macchina qua Qui c'è un venticolo Attenderemo le ansie, attenderei Qui c'è un venticolo E qua sta la vita, è ovvio Lo sapete? Sì, eccoli Stanno tutto Una terra Vai, andiamo se la fa Terra Mamma mia come abbiamo fatto male Vai, stai selfie, vai Mamma mia Questa sarà bella Attacca a grappolo, fa piacere Il chilo, me lo prendo molto volentieri il chilo Senti, io vorrei andare a comprare la La maschera Faccio una volata, eh Vai Comunque, vuol dire del santo gravo Mi sto a trovare strabissimo Guarda, uno dentro Appendiamo, appendiamo Sta dentro Mi sto a trovare troppo bene col santo gravo Guarda, non hai idea di quanto mi fa contento che sto vedendo, guarda Sì, sì, sì Poi prima una parte Ma qualcuno mi stia Nel senso C'è un minuto del cazzo Così Bene Come stiamo messi, in modo che adesso lo chiude Io sto un po' meglio Con il colazzo addosso Maschera antica se lo trovo da per terra Gas in arrivo Alla nuova zona sicura Uh, stiamo bene lo sai Così? Ma è benissimo Stiamo ci Forse è quello che ho detto su di qua, lo sai? Eh, probabile Aspetta, aspetta Lascia tutte le munizioni per terra Tutte? Tutte, tutte Vai Ormai Ah, perfetto Ottimo Aspetta 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 Hai visto come funzionano bene a mina sulle scale? Sì, sì UAPI nemico in volo State perdendo terreno Te resta che quoti Sì Siamo nel cerchio Per cui facciatevi e preparate Una carica Non la mette però sulle scale dove ho messo io Eh, secondo me fa scoppiare questa Per scoppiare la prossimità Ma vai Per un attimo Do dove sei like? Mi sono messa qua Ah, sì, scopla UAPI, sì, scopla Sì, scopla Sì, scopla Mi sono in punto tattico, capito? Sì, sì Sì non dovrebbe farmi danno qua è un buon posto questo potere ruolo sul culo però eh c'è adesso ci chiede proprio sopra beh un bel chrisis e chrisis lo posso fare si si ah un arrestato non me ne ero accorto cazzo una arrestata l'amico su me ne ero accorto troppo tardi quando stava nel cadino no perché erano due meno va bene stiamo qui dovremmo tutto spostarci dopo è entrato qua si preparate come prima arriva un lancio di equipaggiamento a tutte le scale sta eh si la mina mia ha presa gli attraverso tutte le coranze team magnetato chi è che l'abbazzucato destra team magnetato a me mi ha dato me l'ha ammazzato ah perché ha presa la prossimità a quell'altra per uscire da casa è entrato dal vetro ha preso la mina sulle scale poi è andato verso la porta d'ingresso è scappato dall'altra mina e l'ho ammazzato no vabbè gli ho fatto troppo male comunque le mie prossimità sono molto meglio della 54 queste cose io rimarrei qua rimarrei qua ok va bene va bene va bene perché adesso se la sono andata a prendere questi con sta macchina vediamo un po' se è già occupata eh probabilmente non era occupata però vabbè a saperlo è un po' come dicevamo però ma se vuoi che sta casa che c'è più dell'altra perché c'è il bagno che è da poco sulle scale da sta parte possiamo metterci in due punti differenti coperti da tutte e due lati capito eh lo so ma di casa è così ce ne stanno poche solo qua solo questa cosa che c'è di casa ci ne sta un'altra verso 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 l'ambera forse ci ne sta un'altra al massimo no oh stanno a sparare ho visto dei colpi che arrivavano guardate l'entrata tua? l'entrata qua? no ho visto proprio dalla finestra l'ho visti chi di qua? guardate 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 a uscire dobbiamo uscire ehm oh aspetta a terra a terra no eliminato mamma mia il santo gravo questo è il gravo eh cosa no c'è un'epicino mamma mia che gli ho fatto stanno ci stanno pure in sacchia i soldi però mi ne va dalla piena oh oh menzatuno nooo bravo 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 mi hanno subito su me ne so' accorto tardissimo di questo io ho bisogno di questo grande ste grandissimo gas in appiccina messo toccano lì mi servono di curazzi assolutamente aspetta ci vado con la maschera no aspetta aspetta no 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 ho preso i ragazzi qua ho preso i ragazzi qua vai 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 ce sto ce sto seguimi mi veniamo coperti qua oh io cos'hai sto sempre qua sorda io bersaglio agganciato qualcuno entra a casa il bombardamento attacco a grappolo in colla e restano 10 continua così come andiamo qua che c'è una posizione d'altezza occhio a destra gas in arrivo alla nuova zona sicura andiamo verso qua a roccia aspetta aspetta stai attenti a qua a casa andrà sto pure in arrivo mi rapporto mi rapporto 8 toccherebbe andare dietro qua a casa andrà si vai oh stanno a mirare cecchino cecchino stai qua a casetta poco che dicevo io qui allora sta righeggio solo sta righeggio qua aspetta sono qui stanno eh a casa di fonte pure è l'unico punto che posso pensare la stanza è questa qua ci vieni qua dentro qui dentro di fronte alla casa dove c'è stava dove stava a mirando prima io qua dentro c'è stava uno ok avanzare io sto dentro intercesso sta no non tutte e due no non tutte e due l'intercesso sennò fanno due corpi in una in una una unica vai 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 che stava un vantaggio a noi aspetta aspetta Gassi di avvicinamento Bravo stai A terra il manitato Vai 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 A terra a terra a terra Vai eliminato 2 contro 1 Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata O dopo avvicinamento Raggiungete la zona sicura E andiamo E andiamo Che partita signori Bravo 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 Ma che partita Bravo 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 Mamma mia Questa carica che siamo stati Bravo 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 Faccio una grande partita Questa partita che avevamo fatto Bella 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 Orca droga Bella 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 Mamma mia Questa non so che la da l'ultimo chile Io 7 a me ne va a segnare 6 Io sono 4 sicure Questa va chi è aderezza Bella 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 Ma proprio dentro casa L'ho visto L'ho visto che l'avevo sfuggito Che partita signori Bravo 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 E questa è di buon augurio Questo derby Attenzione Sicuramente sì Cassa a martello E andiamo Bravissimo Il brevissimo Dai Allora Come essere Buon derby amico mio Grazie Ci sentiamo Dai Ci sentiamo Dopo Dai Ciao 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 Che partita Oh E sto con santo grau Come ho sponato tutti Oh Grau Purtroppo Non ce l'ho qua Stavano Anzi Sono tre Eh no E che C'è di aver troconciato Questo callo Con Aspettate Sarco Non ce l'ho qua Non ce l'ho qua Non ce l'ho qua